Questa settimana a Vesper parliamo di Carnevale 2018 perché siamo reduci da alcune novità piuttosto significative. La commissione che era stata costituita al Comune per scegliere tra le proposte che sarebbero state presentate ha completato il suo lavoro e quindi avremo già l'elenco delle associazioni che parteciperanno alla prossima edizione della festa. Questo elenco che abbiamo divulgato in tutte le salse, oggi ovviamente parleremo di questo ma anche del dibattito che è scaturito da questa vicenda, ossia gli esclusi che naturalmente hanno aperto alla discussione soprattutto sui social network questa questione, poi parleremo anche di altro tra cui il fatto che alcuni carristi importanti di Sciacca in questi giorni sono al lavoro in Tunisia perché parteciperanno a quella manifestazione, ma parleremo anche di alcuni graditi ritorni dopo qualche tempo di pausa e di riflessione. Cercheremo poi di capire quali possono essere le prospettive per il futuro rispetto al fatto che il Carnevale di Sciacca adesso potrà ambire alla ripartizione dei fondi del Fondo Unico per lo Spettacolo che per l'appunto destinerà delle cifre, si spera più considerevoli possibili, ai Carnevali storici, quindi ai Carnevali italiani più rinomati tra cui fa parte anche il Carnevale di Sciacca. Ne parleremo con i nostri ospiti, li ringrazio per aver accolto il mio invito, Pippo Graffeo, storico autore di Copioni di Carnevale, regista ma è anche uomo di cultura che si è occupato di tanti argomenti. Questo ci tengo a dirlo perché Pippo dice non mi ghiettizzate con questa storia, però è importante anche ricordare che è un pluripremiato autore di Carnevale, ecco lui sicuramente è una persona modesta però è giusto le cose dirle. Accanto a lui l'ex assessore al turismo Salvatore Monte, oggi consigliere comunale e poi l'attuale assessore al turismo Filippo Bellanca e lo ringraziamo anche lui per aver raccolto il nostro invito così come ringraziamo Pino Tamuzza. Allora uno si domanderà a casa tra tante associazioni che potevi invitare ha invitato quello che è stato escluso e però insomma il dibattito è nato soprattutto su questa cosa, su questa associazione che è stata al centro dell'attenzione per il coinvolgimento popolare che è riuscita a dare alle manifestazioni. Pino Tamuzza l'ha presa anche un po' con filosofia, gli do merito di questo fatto, mi è piaciuta molto l'idea fatemi presentare al Carnevale così sarò protagonista, però io queste cose tra il serio e il faceto a me piacciono molto, però voglio partire proprio da Pino Tamuzza. Un commento a mente serena su questa esclusione e volerei chiedergli qual era il soggetto, quale sarebbe stato il tema centrale di questo carro di quest'anno? Intanto buonasera e ringrazio la vostra redazione per l'invito. Chiaramente siete stati così abili perché l'indomani dall'esclusione mi avete strappato un po' queste considerazioni che erano a caldo, oggi sono a freddo, ma vi posso garantire che sono le medesime, perché vabbè sì c'è stato il rammarico del fatto comunque che un progetto è stato bocciato dalla commissione, però va bene, prendiamo atto, voglio dire, non è successo nulla di grave e sarà pur sempre una bella manifestazione. Quest'anno il progetto era molto simpatico, era carino e il carro si doveva chiamare Mi Stupisci, era così inventato perché parlavamo appunto di questa tribù africana dei Mi Stupisci che era una tribù che stupiva poi di fatto, nel senso che era un po' anche, possiamo prendere anche da loro che sono, che poi alla fine non hanno niente, hanno un contatto così diretto con la terra, ma poi alla fine non ci possono insegnare tante cose diciamo, quindi era un invito a far parte di questa tribù, la tribù appunto dei Mi Stupisci e con la cosa di quest'anno che miravamo tanto, era quella di comunque coinvolgere ancora più gente possibile anche nel vestirsi, quindi essere ancora più addentrati nella festa e nel coinvolgimento. Tant'è vero che stavamo lavorando anche sulla presenza di un testimonial, un artista a livello nazionale di colore, perché il carro appunto trattava il tema dell'Africa, che avrebbe comunque dovuto dare questo invito, comunque questo appello al coinvolgimento ancora maggiore nel proprio essere anche vestiti a tema chiaramente di questa tribù africana dei Mi Stupisci. Ecco, questo è il tema che sarebbe stato, che non sarà, Pino Tamuzza guarderà il carnavale, sarà uno spettatore, sarà in ogni caso un protagonista, anche in diretto? Devo dire che è difficile, perché già questi giorni sono stati duri per me, nel senso che c'è stata così una delusione veramente da parte della città. Si aspettava Pino Tamuzza questo dibattito sui social? Io sinceramente non mi aspettavo la bocciatura, in primis. Una volta accaduto questo, ci può stare che uno nella vita faccia anche questa esperienza dell'essere escluso, non mi aspettavo questa reazione della città intera, devo dire, non soltanto dei giovani, perché diciamo che ci è rimasto male anche dai bambini fino a arrivare all'anziano. Un po' tutti siamo rimasti sorpresi da questa decisione, che poi alla fine qualcuno fuori doveva andare, quindi ci può stare. Ecco, prima di passare agli altri ospiti, uno dei componenti della giuria, in particolare il professore Balneari, ha detto ma noi non è che giudicavamo il coinvolgimento popolare, noi giudicavamo la proposta sul piano artistico. È stata una precisazione giusta, è stata una precisazione dovuta a questa. Ho avuto modo di... Ecco, questo è un po' per cercare anche di spiegare le ragioni di una decisione rispetto ad un'altra. Ecco, su questo lei qual è la sua replica? Io capisco in primis l'imbarazzo anche, o comunque la situazione e la posizione difficile che hanno avuto questi giurati, perché comunque escludere delle associazioni non è mai facile. Sarebbe stato bello oggi parlare di un carnevale con otto carri di categoria A, con due carri di categoria B e il Peppe Nappa. Vabbè, ci sono questioni legate alla copertura finanziaria, ma anche quello, dico, poteva essere risolvibile. Quella sarebbe stata la migliore soluzione. Il fatto che qualcuno doveva essere tagliato è chiaro che ha anche appesantito il lavoro che ha fatto la Commissione. Sulla spiegazione del professore la condivido al 100%, perché poi ha detto delle cose giuste, tranne l'ultima battuta che parlava di un carro, il carro di Tamuzza non c'è mai stato. Direi proprio di no, un carro che non c'è è un carrellone vuoto. Il mio non mi sembra che era un carrellone. Casomai era un carro da ultimo posto, ma non era un carro che non c'è. Poteva essere un carro da ultimo posto, tutt'al più. Bellanca dice in un'intervista al nostro regionale, non mi ricordo chi l'ha detto, Bellanca o Monte? Insomma, perché non aiutate le associazioni che sono rimaste? Sono in campo? No, no, no. Bellanca l'ha detto. L'ha detto l'assessore Bellanca, sì. Vabbè, ci può stare che faccia anche un appello del genere, perché comunque il contributo può essere anche dato in altre associazioni, voglio dire. Però... C'è qualcuno di altre associazioni che l'ha cercata? Ma non capisco, non capisco nemmeno il ruolo che potrei avere all'intervista. Non lo so, io ho buttato la battuta del dipingere, non ho mai dipinto in vita mia, dico non so dipingere, ma dico, è una cosa chiaramente, vabbè, che si dice così, come si dice che vinca il migliore, no? Sono delle frasi un po'... Però, eh... Allora... Non ho questo, diciamo, questo ruolo ancora non me l'ho offerto nessuno e non mi... non penso che qualcuno possa farlo. Assessore Bellanca, io posso dirlo che è ammirevole l'atteggiamento di Pino Tamuzzi, tutto sommato. Nella delusione che ci può stare, però dice le regole sono queste, io le accetto. Assolutamente sì, e devo dire che non tanto questa sera, che come diceva bene Pino Tamuzzi ha freddo, uno può fare una valutazione più serena, ma devo dire che è stato ammirevole nell'intervista fatta a caldo, quindi alla fine ha preso con un grande dispiacere, certamente per la passione che mette per il carnevale, ma ha detto queste sono le regole, c'è un bando, quindi qualcuno doveva pur rimanere fuori. Quindi sulla vicenda del mettersi insieme, diciamo che non era una frase di circostanza, anche perché mi giungono voci che qualcuno dell'associazione, non certamente Pino Tamuzzi perché qua ha detto di no, ma qualcuna, una delle due, o sono addirittura tutte e due, hanno già fatto accordi con altre associazioni che sono state selezionate, quindi parteciperanno a pieno titolo al carnevale con le altre associazioni. Quindi diciamo che alla fine è stato accolto l'appello che ho fatto in quella intervista, perché come ho detto bene anche in quella intervista, il carnevale è della città e di tutti, se c'è un bando, ci sono delle regole, purtroppo quest'anno da un lato è positivo il fatto che ci sia stata una partecipazione di otto associazioni, perché è bello, vuol dire che c'è voglia di partecipare e di incrementare ancora di più il carnevale. Dall'altro purtroppo dovevamo fare i conti con le disponibilità economiche e le regole ci sono, come ha detto anche il consigliere Monte in un'intervista, se c'è un bando e ci sono le regole, le regole vanno rispettate, non è che si può fare cosa diversa. La commissione, come ha detto bene anche Tamuzza, ha avuto un ruolo difficilissimo per valutare otto progetti con tutto quello che ne consegue, con gli abiti, i copioni eccetera. Alla fine hanno tirato fuori questo risultato, andiamo avanti e adesso speriamo che anche Tamuzza in qualche modo possa essere attore di questo pernevale. Attore in che senso? Sto scherzando, ci possiamo aspettare di tutto. Commento di Monte su questo? Ovviamente non parleremo solo del caso Tamuzza, parleremo di tanti altri argomenti. Come ho detto in un commento che poi voi avete prelevato da Facebook, io sono stato il primo negli anni che ha criticato molto spesso l'operato di Tamuzza, lui prima mi chiedeva a telecamere spedenti, ma che ho fatto io? Poi gliele ricorderò successivamente l'elenco delle cose che... Due anche non successivamente, anche subito. Diciamo che ad esempio Pino è il classico fautore dei doppi giri, è il classico fautore di fermare il trattore perché sfila dopo Verpen Up e non va bene, deve sfilare ultimo. Io ricordo il compromesso di Piazzetta Bevilacqua durante l'ultimo carnevale, quando a un certo punto lui iniziò a sfilare muto, c'è tutto il carro spento perché ci doveva essere il doppio adesso possiamo raccontare queste cose perché fanno parte della storia, però ci fu il patto di Piazzetta Bevilacqua, dove ci siamo messi d'accordo per cercare di chiudere la cosa in una maniera serena. Per il resto però oggettivamente Pino, io non lo voglio classificare, ma non in senso negativo un carrista, lo valuto una sorta di event manager perché la sua associazione a differenza delle altre ha comunque un taglio nettamente diverso. Quando Pino dice io non so dipingere, io non so fare materialmente qualcosa di pratico, capisco quello che vuole dire, però quando si va nel suo capannone, quando si andava nel suo capannone, gli altri lavoravano, lui coordinava, è un bravissimo coordinatore sotto questo punto di vista, così come devo dire ha delle risorse tali nella organizzazione del contesto del carro che probabilmente altri non hanno. E poi ha oggettivamente una cosa che dobbiamo riconoscere di che è quello di riuscire a catalizzare un sacco di gente, c'è tutto quel popolo che non partecipa attivamente magari nei gruppi con le coreografie prestabilite, va da Pino da Muzza che sa che si divertirà sicuramente, quindi diventa una sorta di faro dove la gente va per divertirsi. Poi per il resto penso che manca, che mancherà perché mancherà appunto a questa fetta di popolazione che sa appunto che Pino faceva comunque delle cose che non avevano l'esigenza per esempio del grandissimo vestito costoso e quindi magari con qualcosa di più semplice ci si poteva aggregare, però mancherà sotto questo profilo, mancherà il Pino Tamuzza casinista. E quindi l'anno prossimo Pino Tamuzza dovrà preparare un progetto un po' artisticamente più importante. Ecco, questa è la conclusione del ragionamento di Monte ma anche quella di Balneare che abbiamo citato come commento già registrato. Pippo Graffeo, una tua opinione su quello che è successo? E anche sul dibattito? Sì, no, è importante questo. Io faccio una premessa, io ammiro anche Tamuzza, anzi, come dice l'amico Salvatore, ha delle qualità importanti, forse in questi periodi bisognerebbe sfruttarli perché sulla scia se uno ha questa capacità di coinvolgere, di catalizzare, secondo me ci sono tanti campi dove poter investire queste tue capacità. Ognuno di noi ha delle energie che sprizza. Detto questo, detto anche il fatto che ogni tanto quando li pescavo mi infilavo in mezzo alla folla e mi facevo un giretto, non riuscivo a seguirle. È giusto dire un'altra cosa, cioè quando si è alimentata questa polemica non si è rispettato per esempio la giuria, che sono persone qualificatissime, che si sono, citiamo il dottor Todaro, Ramondo Moncada. Moncada, il professore, tutta gente qualificatissima, seria, distante dalle beni. La signora Giovanna Maniscalco. Ha fatto una buona scelta l'assessore a scegliere persone. Quindi questi si sono trovati sul tavolo un regolamento che aveva delle situazioni precise da giudicare e secondo me hanno fatto il loro lavoro serenamente, ci dovevano essere tre esclusi e quindi diciamo in questo caso è andata là, è caduta là la scelta, ma secondo è una scelta che bisogna rispettare. Quindi c'è qualcuno che ha considerato la mancanza di Tamuzza come la disfatta dell'Italia mondiale. Voglio anche precisare una cosa, diamo a Cesare qualche di Cesare. Tamuzza è tale perché dietro a Nanà, a Baldo, lui ha questa capacità di catalizzare, di mettere indietro, di attrarre le folle, però non scordiamoci questa cosa. E un'altra cosa che ti dico, non è il primo Tamuzza, questa è una cosa da verificare il nostro carnevale, come si orienta, perché poi c'è da chiarire determinate cose. Ricordiamoci ai tempi dei pomperi, degli immigrati, io una volta ho fatto l'unico minecarro con l'ufficio da Rassena scuzzata per il mio figlio malaminchiata, non si trovava un centimetro di stoffa scozzese in tutte le circondazioni. Voglio dire, questa scia di andare dietro ha una situazione proprio, è nel nostro DNA. È il carnevale, però nello stesso tempo dobbiamo dire delle cose importanti, mi rivolgo agli assessori, al precedente che è il futuro, è vero che abbiamo fatto una lotta per portare il carnevale a orari giusti, per portare il carnevale a questa situazione, non è neanche, diciamole le cose come stanno, non è neanche bello vedere una massa di ragazzini a 14 anni, qua a bottiglia di Ruligia, alle spalle, alle 4 di notte andare alle 2, alle 3 di notte. Cioè voglio dire, attenzione, io non voglio assolutamente, ma se noi dobbiamo orientare un carnevale, io pensavo, diciamo, noi potessimo fare 10 Grey Pride, come si chiama? Grey Pride, possiamo fare 100.000 feste, possiamo fare gli ottobre feste, con le risorse e le capacità che abbiamo, ma il carnevale, se mi permettete, ha bisogno di determinate regole, che ben vengano i gruppi capaci di far divertire, di trascinare, di disimpegnare, ma attenzione, ricordiamoci che il carnevale si deve pensare a un carnevale fatto a misura di famiglie, di anziani, di bambini, che rispette determinato orario e che rispette le proprie peculiarità. Quindi anche una qualificazione, diciamo, artistica. Quindi, attenzione, diciamo, io con questo non voglio giudicare, assolutamente, ripeto, la gran stima, la gran simpatia per questi personaggi che io amo e desidero, ma stai attento a non comprare, perché la stessa gente che adesso alimenta queste polemiche diceva, manca la fine del mondo, era quella che diceva, dai, dai, ti gira, ti fici, ma chi sono lì, c'è notte, ma quando finisci il tuo carnevale? Quindi dobbiamo cercare di capire come valorizzare le qualità di determinati personaggi importanti e incanalare verso quella che sarà l'idea di carnevale che abbiamo anche per il futuro. Stai mettendo tanta carne al fuoco, è interessante, mi stai dando tanti argomenti, mi aiuti anche quasi a condurre la trasmissione. Concluderò con una battuta su questo passaggio, con Bellanca e poi con Tamuzza. È importante da dire che questa commissione non ha finito il suo compito, perché adesso dovrà verificare la rispondenza del progetto, è importante questo. È previsto ovviamente nel bando questo, ma l'ho anche puntualizzato nel comunicato stampa quando ha concluso le operazioni, che la commissione andrà presso le strutture dove stanno organizzando e allestendo i carri, a verificare la rispondenza fra quello che è stato presentato e quello che verrà realizzato. Questo è importante perché voglio dire, se vogliamo cercare di… ripeto, torniamo al discorso di poco fa, le regole se ci sono vanno rispettate, non possono essere solo scritte lì sulla carta e dopodiché un minuto dopo diventano carta straccia. Le regole ci sono, ci sono state all'inizio con l'emissione del bando, ci sono state nella valutazione dei bozzetti, ci saranno durante la realizzazione e ci saranno durante il carnevale, perché non diversamente facciamo un carnevale totalmente aperto, chi vuole sfilare sfila senza nessuna regola, senza nessuna documentazione e si va avanti. Quindi ci sarà ovviamente da parte della commissione una verifica attenta su quello che è stato presentato e quindi quello che hanno valutato con grande difficoltà e quello che nella realtà stanno realizzando. Tamuzza, rivelaci questa cosa del patto di Piazza Bevelacqua. No, no, no. Perché il doppio giro per esempio? Poi mettiamo un punto. Molto spesso dall'esterno può anche apparire come una scelta arrogante anche quella di pretendere comunque queste determinate cose, però l'assessore dimentica che era più che altro un fatto di spettacolo e un'esigenza di spettacolo. Qualche giorno prima dell'ultimo... L'assessore dell'epoca. L'assessore dell'epoca. L'assessore dimentica. L'assessore dell'epoca. Quindi praticamente era stato detto qualche giorno prima, durante una riunione che avevamo anche con il dirigente presente, l'assessore dell'amministrazione comunque, e anche insieme agli altri carristi. Era stato detto che, comunque una richiesta avanzata da me, una situazione più che altro come esigenza di spettacolo, perché ero convinto che lo spettacolo sul palco deve essere un po' inteso come un po' la prima serata, la seconda serata televisiva per intenderci. Ho sempre consigliato, penso che, vabbè, loro sarebbero state la quinta amministrazione, comunque anche nel passato tutte le amministrazioni che si sono succedute poi, diciamo, nell'organizzazione del Carnevale, di considerare appunto, di far esibire, che ne so, il carro bello, farlo esibire in prima serata sul palco, anziché possibilmente far esibire la bambina di sette anni che a luna di notte balla in freddolita sul palco. Solo che il carro bello si decide dopo. L'ho capito, ma appunto la direzione artistica serve appunto a questo, serve appunto a questo, a garantire comunque che il gruppo bello, che il carro bello si esibisca in orari, lì mi collego al discorso di Pippo, che comunque si esibisca dinanzi di una piazza piena. Questo è un discorso di parcondicio, se vogliamo. Mentre, per quanto riguarda la situazione mia, appunto, voi parlavate di catalizzare la folla, è anche una situazione comoda, perché comunque se concentriamo la folla, se tappo ci deve essere, il tappo che non sia all'interno o in mezzo alla manifestazione, ma quantomeno sia all'ultimo. Ma questo ne, diciamo, ne agevola un po' anche in termini di sicurezza, tutta una serie di cose. Io molto spesso, sfilando con 6-7 mila persone, e non è uno scherzo, ma dico l'abbiamo visto tutti nel corso di questi anni, avevo difficoltà. Questi sono gli scontri che lui... Devi ammettere che è difficile però concedere una cosa di questo tipo, anche rispetto a un problema di ordine pubblico, anche rispetto a un problema di pari accessi degli altri. Devo dire invece che l'esito fu positivo, che tutti diedero... Anche gli altri colleghi erano d'accordo. Anche gli altri colleghi, poi l'ultima sera, non lo so, è successa una cosa assurda di un disturbo mio, di una recita comunque, non volontaria, perché capita sempre che con l'amplificazione di un carico... Però insomma, l'idea delle regole, qual è l'idea delle regole per Pino Tamuzio? Chiaramente, perché per esempio una di queste regole dice, carnavale di Sciacca non ha la transenne, carnavale libero, aperto... Ma questo... Oggi come oggi purtroppo sappiamo che non possiamo più forse considerare questo come un fatto naturale e istintivo, perché ci sono delle esigenze... Le regole ci devono essere rispettate chiaramente, infatti non è che erano le mie delle imposizioni, io ho sempre proposto comunque nel bene, sempre nel cuor mio della manifestazione, poi chiaramente le mie proposte possono essere accettate come non accettate, ma questi scontri con l'assessore Monte, io dico non me ne ricordo, se non quelli che ne so di in base a una previsione del tempo annullare una sfilata, e no, io non annullo una sfilata in base a una previsione del tempo, io parto, non so se vi ricordate una domenica partì solo col carro, e allora dico se questi scontri... Non so se vuoi la cosa bella, quando lui racconta queste cose, c'è la cosa che lui racconta e riesce anche a convincerti, questo è un professore... Ma scusate un secondo, non è che me lo sono inventato io, che qualche anno addietro tutti i carri rimasero fermi perché aveva piovuto e perché si aspettava una pioggia forte la sera, e sono stato l'unico a partire, sono pazzo, che cosa è successo in questo? Ma dico, Pino, sei stato l'unico a partire facendo un abuso, lo dico affettosamente... Non è un abuso, perché io firmo... Non eri autorizzato a partire? Assolutamente no, o meglio, assolutamente sì che era autorizzato, perché il carrista che su propria responsabilità firma dei documenti in merito a una strada... Il carrista non è che vola, va su una strada che è pubblica... Va su una strada, e se la strada è bagnata cosa succede? La manifestazione passa, poi se piove si interrompe lo spettacolo... Faranno una tesi di laurea su questo... Ma non si può, bisogna avere rispetto anche dei visitatori... Ha mostrato grandi capacità anche in questo, io direi, dopo il carnevale lo recuperiamo e facciamo un tamuzza in feste... No, non è male... Non è detto che debba essere anche dopo il carnevale, può essere recuperato anche durante il carnevale... Esatto, perché dopo il carnevale... Però dico, per concludere, bisogna avere rispetto anche di migliaia e migliaia di visitatori che vengono a vedere il nostro carnevale... E con la presenza sicuramente dei carri... Perché l'ultimo concetto lo voglio esprimere... E la presenza delle stesse spettacoli... Avrebbe, diciamo, compensato l'uno e l'altro... Ci saremmo ritrovati sì i carri belli... Ma anche il carro che poteva... O... Tattalizzare la presenza... Io temo che se ci fosse un direttore artistico... Avrebbe... Le zigherebbe un minuto sì, un minuto no con Pino Tamuzzi... Ma è bello, lo scontro... Che poi scontro non è, perché era un confronto dialettico... Ma... Mettiamo un punto su questo... Mettiamo un punto per ora sul caso Tamuzzi... Mettiamo un punto, lo posso mettere due secondi e chiudiamo per l'argomento... Dottor D'Antonio, mi permetta... Ci diamo del tuo ormai... Ci diamo del tuo... Avevo cominciato pure io con lei... Un ragionamento inverso voglio fare... Oggi questa assenza ha provocato un po' di dispiacere... Ma è carnevale e di dispiacere non ne dobbiamo parlare completamente... Vorrei fare un procedimento inverso... Le associazioni ammesse... Nessuno ha parlato di loro... Le associazioni ammesse sono associazioni che garantiscono veramente un prodotto bello... Io sono straconvinto che ci saranno cinque carribelli completi anche nei gruppi... Faranno dei bellissimi costumi... Poi vabbè il ritorno anche ce l'abbiamo qui... E ora volevo ripartire da questo... Quindi io da questo punto di vista sono soddisfatto perché conoscendo l'ambiente so che in prospettiva i ragazzi daranno risposte... E questa è la parte della reazione di Tamuzzi che abbiamo tutti apprezzato... Mettiamo un punto su questo... Ripartiamo da Pippo Graffieo e gli chiedo da quanto tempo non facevi più carnevale... Intanto io torno ad ammirare Tamuzzi perché veramente mostra un equilibrio insospettabile... Bravo, bravo, bravo e ti ripeto che io utilizzerei queste capacità... Ci penserai tanto, uno che è capace... Sul piano organizzativo si può coinvolgere... Ripeto, ripeto, non è facile oggigiorno... Detto questo, io sono fuori dal 2001... Fuori, non partecipo, dal 2011... L'ultimo carro l'ho fatto con l'associazione Smaniosa... Sicilia è Isola d'Amore... Io sono tornato perché un pochettino pur stando vicino a tante altre attività culturali... Pur, come dire, rispettando... Ho avuto modo pure in questi anni di capire anche certe situazioni... Quando diciamo che effettivamente il carnevale poteva sottrarre molte risorse... Perché ci sono tante altre situazioni da vedere dal teatro... Le organizzazioni culturali, eccetera, eccetera... Io ritorno perché sono un appassionato vero... Perché io amo quel mondo... Ce l'ho nel mio cuore di sciacchietano pure... Di saccenze... E voglio distinguere una cosa molto importante... Che è quella di distinguere la passione vera... Con la malattia... Non c'è nulla che ha malato il carnevale... Io sto tornando... Ho avuto tante richieste... Questo a noi ci fa piacere... Come ha detto poco fa Damus... Sapere che il mondo del carnevale ti vuole bene sempre... E ti rispetta e ti cerca... Io ho avuto tante richieste... Alla fine ho scelto questo gruppo giovane... Motivato, eccezionale... Ora li fermi tu... Ritorno con la mia passione... Torno là e vedo questi ragazzi che crescono... Di anno in anno... Crescono nella... Come dire... Nella manifattura... Crescono nei movimenti... Crescono nella decorazione... Nei colori... Io sto trovando questa crescita... Forse qualcosa che ha perso il carnevale negli ultimi tempi... È quello delle altre peculiarità... Importanti che differenziano il nostro carnevale... Rispetto a tanti altri carnevali d'Italia... Che è quella dell'aspetto allegorico... Del copione... Del copione... Dell'originalità delle musici... Cioè il nostro è uno spettacolo composito... Che poi hai la fortuna di avere dei carri... Che non... Cioè non hanno... Non avrebbero paura di nessun altro carnevale... Vedi questa generazione nuova di artisti che viene fuori... Con una grande passione... Non so cosa è successo a questi ragazzi... Non so cosa è successo... Io li trovo motivati... Li trovo quasi felici... E non sono quei malati che hanno bisogno del nuovo carnevale... Se non muore... No... E' gente che si toglie la tuta di lavoro... Dopo aver lavorato otto ore... Riprende quella muta e trova là dentro un'energia incredibile... Salta sui muri... Costruisce... Io ho avuto la fortuna quest'anno con questi ragazzi... Di ritrovare un po' l'atmosfera di una volta... O poeta torna poeta... Quello che suggerisce... Quello con il quale si crea... E si spiega che alla fine lo spettacolo nostro del carnevale di Sciacca... Non è quello via Regino... O quello di Acireale... Dove il carro fila freddamente... E viene ammirato per la capacità... Il nostro carnevale finisce nel momento in cui tu sul palco... La serata finale... Ti abbracci dopo la recita... Dopo il ballo finale... Dopo l'inno... Questa composizione... Questa vita che si fa in un garage di carnevale... E' una cosa secondo me... Difficile da scrollarsi di dosso... E ti è mancata in questi anni naturalmente... Anche se hai fatto tu una scelta... Mi è mancato... Certo che mi è mancato... Non crederò mai che ogni anno qualcuno non sia venuto a bussare alla tua porta... No, no... Io ho avuto sempre questa cosa... Poi fra l'altro... Vedi che vivo con mio fratellone in Geno... In Genito... Per cui anche lui è stato fuori... Ma abbiamo un po' vissuto... Ecco però... Ti voglio dire... Non è che mi è mancata la malattia... Una domanda... Fammi fare una domanda a Capizziose... Tu sei un uomo di... Di spirito... Sembra quasi che tu abbia aspettato... Che l'amministrazione di Paola... Esaurisse il suo mandato... Per ritornare al canale... No, no... Non è questo... Loro hanno fatto... Hanno fatto le loro scelte per carità... Certo non ho trovato... Il materasso giusto... Dove potermi accomodare... Lo scalone diciamo... Assolutamente non mi è stato mai... E voglio dire impedito... Loro hanno provato a fare quello... Che dovevano fare... Per il carnevale... Io torno per chiudere questo discorso... Una cosa importante... Che la gente... Il carrista lo capisce... Questo lo rivolgo... All'assessore precedente... Non è assessore... Attenzione lo carista non è che... O malato qualsiasi... Che non capisce niente... Perché va a fare il carnevale... Lo capisce che in una società... Ci sono le priorità... Lo capisce che in una società... È come una famiglia... Che quando si sta male economicamente... Bisogna pensare alle priorità... Io prima a pensare a dar mangiare ai miei figli... Pensare ai libri... Pensare alla scuola... Poi pensiamo al telefonino... Il carnevale... Cioè... Bisogna pure... Pure capire... Che determinate risorse... Tutti sei sempre battuto... Siamo pronti pure... A semplicarci... Ma si sei sempre battuto... Perché la tradizione... Venisse... La tradizione... La tradizione non ha bisogno di quantità... Non ha bisogno di grosse cose... Pure buccecarle... Pure... Un tamuzzo è rivisto... È riqualificato... Voglio dire... Con la sua gioia... Con la sua gioia... Il nostro carnevale è questo... Noi non dobbiamo imitare... Scimmiottare... Carnevale... Quei lucili... Quelle cose... Noi dobbiamo dare l'occasione... Fra l'altro il carnevale ha un compito anche sociale... Io eri sera andando nel carro dove sono... Che ora li fermi tu... Ho visto arrivare dieci ragazzi... Ci hanno visto a internet... Nei ristro... Ne potete accogliere... Volevo mettere carta... Sono ragazzi 14-15 anni... Che li toglieremo per due o tre mesi dalla strada... E vivranno questa avventura con noi... Lo carnevale è bello... Perché basta che metti una pittina... Ti senti pagiune... Ti senti uguale a me... Uguale al costruttore principale... E questo quindi assolve anche... Noi non ci mettiamo in testa che il carnevale risolverà i problemi turistici della città... È una carta da giocare... Attenzione... Però il carnevale risolve anche i problemi di rispondere a un'esigenza del nostro popolo... Che è quello di poter dare... Noi siamo un popolo creativo... Creativo... Non scialuso e basta... Creativo... Tutti questi nostri giovani che sono fuori... Che svolgono attività anche importante... Abbiamo cardiologi importanti... Abbiamo primari... Abbiamo gente nell'arte... Nella cultura... Sono cresciuti... Prima di dire papà... Diciano pepennati... Monte... Una considerazione su questo... Sulla necessità di tutelare la tradizione... Voi siete stati costretti a fermarvi... Qualche volta... E però... Quando c'è stata... C'era sempre il timore che aveva l'ex assessore Mandracchia... Che salutiamo... Che se ci fossimo fermati... Poi ripartire sarebbe stato complicato... Credo che non avesse tutti torsi... Assolutamente... Però siamo riusciti... Tutto sommato si è riusciti... Una considerazione anche rispetto alle cose che dice Pippo Graffeo su questo... Beh... Innanzitutto sul... A me in questi anni... Anche io stesso... Chiesi a Pippo di un suo eventuale ritorno in pista... Così come devo dire... Ci sono state anche delle occasioni di collaborazione... Che la passata amministrazione ha avuto con lui... Come materasso morbido... Non so poi nel dettaglio cosa si voglia intuire... Forse nella mia testa vado a sognare... Però lo tengo per me cosa possa significare... Per il resto... Credo e condivido comunque il fatto... Che ci siano delle peculiarità che vanno tutelate... Senza ombra di dubbio... Da un lato... Bisogna fare i conti comunque con una teoria di spettacolo che cambia... Cioè cosa significa materialmente... Che non volendo perdere... Quelle che sono le nostre peculiarità... Comunque dobbiamo dire che dobbiamo andare per forza avanti... E al passo con i tempi... Perché tutto si evolve così come si evolve il mondo dello spettacolo... Carnevale rientra in quel settore... Quindi chiaramente ci devono essere delle scelte... Che lo svecchiano e lo fanno camminare... In base alle esigenze che ha un pubblico... Attenzione perché comunque negli anni ci sono state delle modifiche... Che probabilmente vengono riconfermate... Che servono a garantire non soltanto a chi partecipa attivamente... Ma anche a chi a casa comunque di vedere una cosa che sia comunque al passo con i tempi... Se noi prendiamo il carnevale degli anni 2017... È completamente diverso dagli anni 2000... È completamente diverso dal 95... Perché lo spirito è diverso... Perché chi partecipa è diverso... Quindi così come quando si mette in scena un'opera... Probabilmente quella stessa opera vista da un regista degli anni 90... La vedeva in un modo... Se la vediamo nel 2017 la vede completamente diversa... Però l'esigenza che evidenzia Graffeo di mantenere quelle peculiarità... Che probabilmente in alcuni casi sono state perse... Assolutamente giusto lo condivido... Sono ritorno a tornare al passato... Recuperare... Recuperare assolutamente... Perché? Ma perché manca alle volte anche la materia prima... Pippo è uno storico copionista... Quindi sa perfettamente quali sono quelle... Come dire... Quelle regole base che servono per esempio a garantire un copione... Che copione si deve chiamare... Quindi molto probabilmente bisognerebbe anche... Ma questo sta poi nel settore culturale della manifestazione... Che possa essere anche... Uno spirito collaborativo... Insegnare agli altri come... Si scrive un vero copione di Carnevale... Non magari a fare la parodia a qualcos'altro... Ecco... Voglio aprire un altro tema... Poi naturalmente coinvolgerò l'attuale Assessore... La Fondazione Carnevale... L'Assessore Monte non è... Non è stato mai molto propenso per questa soluzione... Scontrandosi a livello concettuale con l'attuale Assessore... Ma per esempio ricordo che Pippo Graffeo... Era per la creazione comunque di un'associazione... C'era stata una interlocuzione anche a suo tempo... Durante l'amministrazione Bono... Oggi anche alla luce delle considerazioni fatte da Pino Tamuzza... Non ritiene di ripensare questa sua posizione? Assolutamente no... Assolutamente no... Per il semplice fatto che c'è comunque un'amministrazione... In questo caso che c'è sempre comunque... Che ha un suo Assessore di riferimento... Che ha i suoi collaboratori... I quali hanno il compito di organizzare una manifestazione... Io credo che sia per l'amministrazione di turno... Un onore... Un piacere... Oltre che chiaramente un onere... Quello di organizzare una festa... E la organizza con una struttura comunale... Che bene o male ha già una sua... Come dire... Abitudine nell'organizzarla... Il suo know-how... Come si potrebbe dire... Esattamente... Il suo know-how assolutamente... Però... Io sono sempre stato contrario per un semplice motivo... Creare un sottogoverno... Inutile... Dove alla fine... Le persone che vai a mettere lì dentro... Ti possono comunque aiutare... A te Assessore... A fare il carnevale... Lo possono fare del resto... In maniera del tutto volontaria... Così come sono i componenti... Dell'eventuale fondazione... Non c'è bisogno di creare un altro sistema... Che non serve assolutamente a nulla... Perché non sgrava il comune da... Apparati economici... Anzi... Siamo sullo stesso identico binario... E oggi lo stiamo vedendo con... Con le novità che arrivano dal Ministero... C'è un comune che probabilmente riesce ad avere i fondi... Anche se non ha la struttura... Che si chiama in questo caso fondazione... Per il resto... I famosi gruppi di saggi... I famosi consiglieri extra... Comune... Come può essere Pippo Graffè... Come può essere un giorno di Palagonia... Non mi ci hai messo mai fra i saggi... Ma non l'ho mai... Poi alla fine non l'ho mai fatto io... L'ho fatto io... L'ho fatto io... Quindi di conseguenza... Serve a poco... Quindi di conseguenza... Io sono dell'idea che c'è un'amministrazione... Che si può avvalere... Tranquillamente... Delle esperienze storiche di ognuno... E io per esempio... Ho visto negli anni... Testimone lo stesso Giuseppe Ingenito... Quante volte ho chiesto... Innanzitutto quello di... Ritornare a fare il carro... Per com'era... Ma Giuseppe Ingenito probabilmente... Anche lui non aveva il materasso morbido... E quindi di conseguenza... Questo problema del materasso... Bisognerebbe chiamare la Hemiflex... Per capire qual era il problema... Questo... Forse era un problema di molle... Nessuno può rinnegare il fatto... Che io stesso abbia chiesto... Aiuto... Tanto che poi ricordo... Che nel carnevale estivo... Organizzato dall'amministrazione Bono... Nel 2011... Siccome toccò a me organizzare... La prima interlocuzione... Io la ebbi appunto con Giuseppe Ingenito... Che poi ci aiutò... Allora... Bellanca... Partiamo da questo... Da questa vicenda del dibattito... Sulla fondazione... Che poi ovviamente Pippo mi chiede un commento... E gli sarà concesso... Per fare questa domanda... Si è tentato di... Di... Come si dice... Di dare... Di affidare a privati il carnevale... Ma è stato... L'amministrazione precedente... L'amministrazione precedente... Ovviamente... Mi riferisco a quella... Alla fine però... Di cosa ci siamo resi conto? Che... È stato un esperimento... Che è fallito... Per tante ragioni... A partire da quello meteorologico... Lì colpa non ce l'ha a nessuno... Però tu che fai? Affidi una manifestazione... Ad una società esterna... E poi però la protezione civile... La devi garantire tu... I vigili del fuoco... Le devi garantire... L'ordine pubblico... La polizia municipale... E quindi alla fine... Il comune... Comunque... Non esternalizza granché... Perché deve metterci sempre... Un po' di soldi... Ecco forse... Qual è il ragionamento... Che fa Monte... Mi posso permettere... Rispetto alla fondazione... Qual è la sua opinion... Quella... Quella... Infelice scelta... Che lei ha ricordato... Che poi... Infelice è stata nei fatti... Possibilmente l'idea era... Giusta di provare a... Trovare una soluzione diversa... Non ha niente a che vedere... Con quello che poteva essere l'idea... Che lei ha ricordato... Di circa sei anni addietro... Quando io ho coinvolto anche Pippo Graffero... Insieme ad altri... Per avere... Un supporto... Visto che alzutto ero pure Presidente del Consiglio Comunale... Quindi non svolgevo un ruolo amministrativo... Ma volevo dare... Un mio contributo... Proprio perché la fondazione... La realizzazione... Doveva passare dal Consiglio Comunale... Era diversa... Perché... Non è vero che... La fondazione... Non poteva occuparsi della protezione civile... Non è vero per come... Ripeto... Per come era l'idea di realizzazione... Poi non è che è detto che si poteva... Fare in quel modo... Non è vero che i costi erano identici... Perché l'idea era quella di fare... Iniziare... Con il primo anno... Dell'avvio della fondazione... Poi gli stessi identici trasferimenti dell'anno che utilizzava il Comune... Da secondo anno in poi iniziare ad abbassare i trasferimenti... Fino ad arrivare a un punto ovviamente di non trasferimenti di nessun tipo... Perché se no non aveva neanche senso... Ricordo anche che... Di recente ho partecipato appunto a questo incontro con le altre organizzazioni dei Carnevali d'Italia... E mi sono trovato... Ma penso che il collega Monte conosce benissimo... Dove diciamo tutti sono o associazioni o fondazioni... Sono pochissimi i comuni che organizzano il Carnevale... Ma per un problema anche di snellimento di procedure... Perché se un Comune... Dico una banalità... Se un Comune deve organizzare una serie di gadget del Carnevale... È complicatissimo... Perché sappiamo tutti quali sono ovviamente i provvedimenti amministrativi da andare a fare... Cosa diversa se lo fa un'associazione... Cosa diversa se lo fa una fondazione... Tutti questi Carnevali... E ripeto il collega Monte lo sa meglio di me... Perché ha partecipato lo scorso anno a un mando del Ministero del Turismo... Il Comune di Sciacca ha preso 21 mila euro se non ricordo... 33 mila euro... A differenza di comuni con Carnevali piccolissimi... Che hanno preso addirittura 40 mila euro... Perché c'era una serie di parametri legati al pagamento del biglietto... Il pagamento del non biglietto c'è... Quindi noi siamo indietro su questo... Siamo molto indietro... Noi siamo presenti... Ci mancherebbe altro che l'amministrazione o l'assessore di turno non neva organizzare... O come è giusto che sia l'ufficio che già bene o male ha un no-how non indifferente... Però è ovvio che un'altra forma giuridica è una novità... E che potrebbe snellire seriamente quelle che sono le difficoltà di oggi... Perché poi lei le ha prese molto così lateralmente... Ma ci sono tante difficoltà nell'organizzazione di un carnevale... Che non sono più quelle di qualche anno fa... Per tanti motivi che noi conosciamo... Già dall'anno scorso c'erano delle difficoltà... Perché c'era il problema dell'antiterrorismo... Quest'anno ci sono altre difficoltà ulteriori... Quindi diciamo che è un comune... E' sempre una macchina che fa fatica a muoversi, a organizzarsi, a gestire... Quindi una fondazione è una situazione più snella... Che poi non c'è nessun sottogoverno... Perché poi di fatto il presidente della fondazione è il sindaco protempori... Quindi non è che uno va a fare... E parte tutto che ho sempre detto... E l'ho detto prima, lo continuo a ripetere... E questa è la mia idea... Che la fondazione doveva essere dei garristi... Perché doveva essere della politica... Se no non abbiamo fatto niente completamente... E con la garanzia del sindaco protempole... A presidente della fondazione... Questa era l'idea... Semplicemente questa... Com'è in tutto il resto d'Italia... Perché non è che è una novità unica di Sciacca... 2018... Quanto costerà in meno rispetto all'anno scorso? Lei ci tiene sempre a precisare... Che il discorso del secondo fine settimana... Su cui l'ex assessore Monte non era d'accordo... E dice che non è che il problema è soltanto di costi... Perché la macchina organizzativa è già talmente avanti... Che non è quello il risparmio... Questa è una scelta che ho già... Ecco, volevo chiederle... Di ribadire... Devi soffermarsi su questo... E quanto costerà in meno... Visto che voi vi eravate impegnati a spendere di meno? Anche lì, sui costi... L'ho detto tante volte e lo ripeto... E' giusto che lo ribadisca... I costi... Quello che abbiamo sempre detto... E quello che noi dobbiamo essere... Sulla cifra che va... O qualcosa a meno di 300... O qualcosa a più di 300... Su questo ho anche detto... Per correttezza di informazione... L'ho detto a una intervista proprio qualche giorno fa... Che lì ci viene incontro in parte anche alcune voci... Che sono calate dentro il piano aro... Perché poi alla fine... Quando uno dice la verità non sbaglia mai... Quindi non c'è nessun problema... Alcune voci mi riferisco come la pulizia straordinaria del carnevale... Non è più un pagamento fatto a parte... Ma è inserito nel piano aro... Quindi già c'è un risparmio tecnico che non c'è più... Doviché noi con una serie di tagli... Che abbiamo già pensato... E che faremo in pratica... Ci sarà un risparmio notevole... Quindi un risparmio che... Fra quello che ci viene incontro sul piano aro... Fra quello che noi abbiamo deciso di tagliare... Il costo dovrebbe essere vicino ai 300 mila euro... La speranza è scendere pure sotto... E sul secondo fine settimana per motivi scolastici? Sul secondo fine settimana c'era una serie di motivi... Ripeto, al tutto c'è stata anche un'arrione... Abbastanza partecipata delle scuole... Quest'anno abbiamo una serie di competizioni elettorali... Tutte quasi una dietro all'altro... Abbiamo avuto le regionali adesso... Ci saranno le nazionali a marzo... Ci saranno le provinciali ad aprile o a maggio addirittura... A primi di maggio... Quindi era una difficoltà seria un'organizzazione di questo tipo... Ma poi è una questione... Ognuno deve dare la propria impronta... L'impronta che abbiamo voluto dare è questa... Ritenendo che è giusto il carnevale storico nostro... E questo di qua... Con una differenza... Una differenza che... Diciamo che... La settimana prima del carnevale... La piazza Scandalato dovrà essere utilizzata... Per fare l'evento arriva alla festa... Ritengo opportuno che l'evento arriva alla festa... Venga fatto in piazza... Una piazza aperta a tutti... Quindi ci saranno le due giornate prima del carnevale... Cioè dopo la Madonna del Soccorso... Quindi il 3 di febbraio... Un'iniziativa che sarà il sabato e la domenica... In più aggiungo... Che... Abbiamo messo nel bando... Che i primi 3 carri... Primo, secondo e terzo... Che parteciperanno all'edizione del 2018... Dovranno essere messi a disposizione del Comune di Sciacca... Fino a settembre del 2018... Proprio perché c'è un'idea... Che spero... Possa essere portata avanti... Ricordavo poco fa l'amico Pippo D'Affeo... Quindi non dovranno essere smontati... No, dovranno essere conservati... Non dovranno essere smontati... Certo, magari... Sarà un po' più complesso... Pippo D'Affeo ricordava il 2011... Quando in quella occasione... Organizzatore anche... Direttore della festa era il consigliere Salvatore Monte... Si organizzò un'uscita del carnevale... Proprio di ingenito... In una sessione estiva... È stata una bella esperienza... Lo ricordo come una bellissima esperienza... È ovvio che però era... Quella situazione... Soltanto se uno riesce invece a mettere insieme... Una serie di altre iniziative... Si può studiare qualcosa in un periodo più estivo... Mi piace molto la metafora del materasso... Com'è il materasso oggi dell'amministrazione Valenti? Che cosa avete scelto voi? Non facciamo marchie... Pippo ha fatto un esempio dicendo... Ha fatto una battuta... Non voleva dire che c'è un problema di accomodamento... Più o meno facile o più o meno difficile... Non è... Non si tratta di materasso... Si tratta di noi siamo qua... Siamo un'amministrazione aperta... Senza nessuna difficoltà... Lo dimostra il fatto che... Così per ricordarlo... Lo scorso anno... Erano sette le associazioni partecipanti... Ne hanno dovuto escludere una... Due anni fa... Se non ricordo male... Erano soltanto tre... C'è stata difficoltà proprio ad averle... Quest'anno erano otto... C'è stata quindi una partecipazione maggiore... E quindi vuol dire che c'è una voglia di partecipare... Ippografia sulla fondazione... Poco fa diceva di no... Io voglio presentare una piccola cosa sullo spettacolo... Il fatto di rispettare le tradizioni e le nostre peculiarità... Non sto io a dirlo... Lo ha detto in una conferenza... Quando è stato presentato il libro di Verde... Il professore Ignazio Buttitta... Che ha detto... Attenzione... Diciamolo chiaro... Lui studia... Come dire... Conosce in maniera molto approfondita... La materia... E il vostro carnevale effettivamente... Si differenzia un po' da tutti quelli d'Italia... Attenzione a rispettare questo... Il carnevale richiede questo fatto... Il rispetto della tradizione... E la modernità dei tempi... Dello spettacolo... Ma questo lo comprendiamo tutti... Fra l'altro ricordo... Io... Il primo inno... Quando mi dice... No, non ti voglio vedere... Tu... Quando si dice... Sto pubo che c'è casa... Era un inno che rispettava l'idea dell'inno... Ma si aggiornava i tempi... Con Moreno abbiamo fatto il mimo sul palco... Io cerco di crescere... Non conta l'età... Secondo me è anagrafica... Bisogna a questi giovani... Ingolcare questa idea di presentare uno spettacolo... Ma che rispetti la poesia, per esempio... Un copione senza un pizzico di poesia... Senza un pizzico di ironia... Senza un pizzico... Senza un risato non è più un copione... Per il nostro carnevale... Detto questo... Il materazzo si sta bene o non sta bene... Io mi auguro... Che la prossima amministrazione... Che chiunque verrà... Abbia un'apertura... A questo mondo dei carristi... Non ne faccio una questione personalizzata del carnevale... Questo il problema è... Questo è il materazzo... Un desende di rome... Da materazzo toi... Dove stai bene... Il carnevale... Caro Salvatore... Deve essere dato a chi lo fa... Ai carristi... Non è vero che la fondazione poi ricade... Perché se tu guardi tutti i carnevali... Importanti e meno importanti d'Italia... C'hanno tutta una struttura giuridica... La verità è che il politico... Il politico... Si deve spogliare... Se vuole che un carnevale... Possa andare avanti... E possa avere una storia diversa... E adeguarsi ai tempi... Il politico... Resta assolutamente... Assolutamente... Diciamo... Quello che deve vigilare... Deve avere la figura... Preminente... Vogliamo dire... Giusto? Però... Che ne pensate... Di creare una struttura... Come ce l'hanno... Ripeto... Tutti i carnevali... Tutti i carnevali... Dove c'è un gruppo di persone... Che Fraccio si mette anche a disposizione... Gratuitamente... E si lavora tutto l'anno... Pensando con... Con i carristi protagonisti... Con gente abile... Nel mondo della... Della grafica... Della pubblicità... Dello spettacolo... C'è creare insieme... Una struttura... Che possa lavorare... Naturalmente col controllo... Per poter portare un domani... Un carnevale... Si spera... Che sia... Che si liberi... Dalle casse dell'oro... Perché il comune... Con quei pochi soldi che ha... Deve fare le strade... Deve pensare... Alla gente è bisognosa... Deve creare posti di lavoro... Non deve pensare al carnevale... Al carnevale ci deve pensare... Questa struttura... Sarà un'utopia la mia... Ma non so... Altri posti ci sono riusciti... Pur nella crisi... Io chiudo con questa battuta... E' inutile andare a fare passerella... A fine di ogni carnevale... Lo dico anche a te nuovo assessore... E abbiamo fatto il carnevale... L'abbiamo salvato... E siamo noi... No... Voi sa quando farete un grosso favore a Peppe Nappa... Quando farete questi famosi capannoni... Quando darete le strutture a questi carri... Poi la politica deve fare questo... Poi il carnevale lo deve gestire... Chi lo fa... Chi lo conosce... Chi ne può trarre anche un vantaggio economico di lavoro... Come avviene a Viareggio... Come avviene in altri posti d'Italia... Per cui dico... Stiamo attenti a queste cose... Allora... Monte... Fondazione... E poi la vicenda del secondo fine settimana... Insomma... No... Vabbè... Sulla fondazione l'ho già detto prima... Quindi bene o male... Ritorno su questa posizione... Però dice Bellanca... Sarebbe stato l'inizio... Cioè... Fare la fondazione sarà... Il primo anno è chiaro che... Non si vedranno i risultati... Ma in prospettiva... Questa credo che sia un'idea... Diciamo... Messa in campo... Quest'idea dell'assessore Bellanca... Che già è stata proposta... Anche durante la campagna elettorale... Anche senza l'idea della fondazione... Ma con contributi che arrivassero dall'esterno... Quest'idea di... Primo anno quanto si era speso il precedente... Il secondo anno il 50% meno... Quindi di conseguenza se... Come immagino... Ci saranno delle collaborazioni esterne... Nella edizione 2018... Di conseguenza questo modus operandi... Che si è già ribadito... Probabilmente già può iniziare... Anche a fare una sorta di prova generale... Di quello che poi potrebbe essere... Sul secondo fine settimana? Sul secondo fine settimana... Il secondo fine settimana... Ammetto... L'ho sempre detto di non essere stato io... Il fautore... Perché a me venne proposto da Davide Emmi... Che ebbe un giorno questa idea... E io la sposai in pieno... La sposai in pieno perché... Materialmente... Poteva e può essere... Un'occasione per far veicolare in città... Maggiore economia... Rispetto a quella... Che si può avere in quattro giorni soltanto... Perché poi alla fine... Se ti capita un tempaccio... O devi correre i ripari in qualche modo... Sperando che i carri ti rimangano integri... Oppure rischi veramente di mandare... Perché non abbiamo i capannoni... Perché non abbiamo i capannoni... E questa sarà la conclusione... Dell'intervento che vado a fare... Però materialmente... Sul profilo scolastico... Io non credo che ci sia nessun problema... Perché se poi... Proponiamo alle scuole... Di fare i gruppi mascherati... È chiaro che... Già del tempo viene tolto allo studio... Per andare a fare le prove dei balletti... Ma non è la stessa cosa... Perché questo è offensivo... Nei confronti di chi insegna... No assolutamente... Non è che lo fanno nelle ore scolastiche... Tra le altre cose... Nelle preparazioni dei gruppi... Non li fanno nelle ore scolastiche... In ore pomeridiane... Sì ma come dice lei però... Fa immaginare che... La mattina anziché andare a scuola a studiare... Vanno a fare il carnevale... Non è così... Non è lo stesso problema... Comunque si ritaglia del tempo per la manifestazione... Sì... Nel pomeriggio si ritaglia del tempo... Io preferisco apprezzare... Quello che dice Bellanca... Nella seconda parte del suo discorso... Lo apprezzo di più... Perché è veritiero... Voglio dare un'impronta diversa... Ma è giusto... Perché lui in questo momento ha rivisto un ruolo... Che rispetto al passato... Deve dare un'impronta sua... Cioè l'amministrazione Valenti deve dire... Questo carnevale rispetto ai precedenti... È cambiato in questo... Questo e questo e questo... Quindi quando lui dice una cosa del genere... Io ho già alzato le mani... In qualche intervista passata... Dico... È una scelta artistica... Quindi se si vogliono rintrodurre i minicarri... Se si vuole eliminare un fine settimana... Sono scelte assolutamente legittime... Delle quali veramente... C'è un target che si chiama... In questo caso amministrazione Valenti... Intanto ci sono tre associazioni... Voglio partire da Tamuzza su questo... Tre associazioni che sono in Tunisia... E che aglieteranno... Tra l'altro credo che due... Non sono tre... No, sono tre operatori... Sono tre operatori... Di un'associazione Nuove Evoluzioni... Se non ricordo male... Credo che... Così le monti sono meglio... Alcuni di questi protagonisti... Siano quelli esclusi dal bando... Sì, sì... Fa un po' riflettere questo... Insomma siamo... Però c'è da dire che lavorano già... Perché noi siamo andati... Mi consente di dire una cosa su questo... Scusa... No, 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 prego... Proprio loro sono quelli che hanno fatto già un accordo con un'altra associazione che sta partecipando... Quindi una parte di questi... Perché l'altra parte si trova in Tunisia... Quindi diciamo che alla fine non c'è stato il problema... Poi voglio dire... Cioè questa cosa... Insomma della Tunisia... A me non è che mi fa impazzire più di tanto... Perché? Ci dica cosa ne hai... Non lo so... Non vedo quale può essere il vantaggio per noi... Che i nostri operatori vanno a lavorare... A fare dei carri in Tunisia... Non vedo... Non trovo... Ma è sempre nel circuito di quel resort dove... Sì... Ah ecco... È un resort che organizzano... Andiamo a mistupisci... Perché veda qual è il discorso... Se noi riuscissimo a... Allora... Per esempio anche nel bando una piccolissima novità... Perché poi... Ritorno un secondo su questa vicenda... Noi abbiamo detto che il Carnavale 2018 non può avere grandi stravolgimenti... Quindi non ci può essere... Chissà quale... Questo è naturale... Ecco in pochi mesi... Però per esempio una cosa che ho voluto inserire è quella che... Chiunque volesse utilizzare i carri, i nostri carri e il nome Carnavale di Sciacca... Deve preventivamente chiedere ovviamente e comunicarlo al Comune di Sciacca... Proprio perché per sapere che molto spesso i nostri carri e i nostri pezzi vanno a finire fuori... Ma io pretendo da amministratore e da cittadino che si dica che sono i pezzi del Carnavale di Sciacca... Almeno questo... Almeno questo... Io non lo so se in Tunisia si dirà poi che... Questi sono operatori del Carnavale di Sciacca... E ci sarà una promozione per il nostro territorio... Non lo so... Non credo... Non credo proprio... Almeno non ho nessuna notizia... Quindi può essere pure... Le notizie le posso dare io in quanto direttore artistico dell'iniziativa... Mi sto pure sbagliando... Lo posso tranquillamente... Però non la vedo una cosa positiva ad oggi per le scarse informazioni che ho e che abbiamo tutti... Monte è direttore artistico di questa iniziativa della Tunisia... Esattamente... E queste sono notizie che io non... Noi non abbiamo ancora in questo momento fatto la conferenza stampa di presentazione e iniziativa per un ordine di motivo molto semplice... Il 26 o 27 di novembre ritorneranno i ragazzi qui a Sciacca per collaborare probabilmente... Su questo sono accorrente anch'io con altre associazioni... Per poi... Di questa è la novità pure che c'è... Per una collaborazione a Mammet... Per ritornare ad Ammahmet subito dopo il Carnavale Sciacca per il completamento dei lavori... Quindi ho aspettato e aspetto che tornino per chiaramente far parlare anche loro che sono in questo momento gli attori principali di una iniziativa... Che differenza di quello che pensa il consigliere Bellanca... L'assessore Bellanca... Ma anche consiglieri... Anche consiglieri... Nella doppia... Non senti lo stesso... Ho detto che lo fa collega perché sono consiglieri... In questo caso siamo... Come dire... Dico li aspetto perché è giusto sentire la loro opinione... È chiaro che si va sotto il nome di Carnavale di Sciacca... È normale... Sarà promosso il Carnavale di Sciacca e sarà realizzato in miniatura... Tanto è che materialmente... Questi tre carri che sfideranno sfideranno con le nostre peculiarità... Con il gruppo davanti al carro... Con l'inno in riferimento al carro... Gireranno all'interno di... Attorno a questo resort di Ammahmet e quindi faranno promozione al nostro Carnavale... Credo che sia un'occasione assolutamente buona per promuovere il Carnavale... Quando si andava a farsi le altre vacanze in giro per il mondo a promuovere il Carnavale senza poi avere nulla in mano... Credo che questa volta ci sia l'opportunità di far vedere quello che sappiamo fare... Muzza cosa pensi di questo fatto? Ma è una battuta in primis sul discorso del soggetto giuridico della gestione del Carnavale... Io sono straconvinto che qualsiasi forma si utilizzi... Che possa essere quella della fondazione, associazione, municipalizzata, società mista... Io patto sempre e faccio due giorni... Financo comitati di quartiere migliorerebbero sicuramente la macchina organizzativa del Carnavale... Per molti aspetti infatti quello che diceva l'assessore Bellanca anche nella gestione... Nella predisposizione ad esempio di un bando... Una cosa che lo faccia un ente pubblico è una cosa che fa un bando interno, una società privata... E poi per tantissimi altri aspetti... Che ne so... Oggi si parla del Carnavale ma nessuno mai ha valorizzato il marchio Carnavale di Sciacca... Che tra l'altro non esiste... Il marchio non è tutelato... E' una cosa assurda per delle società che lavorano comunque e gestiscono queste iniziative perché è una percentuale di fatturato importante per un bilancio di una società la gestione del marchio... Dico questo per fare altre milioni di esempi... Che dentro dalle squadre di calcio... Che dentro dalle squadre di calcio... Che dentro dalle squadre di calcio... Solo lo sfruttamento del logo... Questi paragoni... Mostruosi, mostruosi... Soprattutto se poi a questo può essere aggiunto tutta una serie di iniziative che si può fare solo esclusivamente avendo il marchio... Certo... Oggi come oggi è un po' un pascolo abusivo... Una società gestirebbe... Su questo ho attivato le procedure per capire come poter fare la registrazione essendo che si tratta di un marchio... Di un ente pubblico quindi ho già... Sono tutela delle marchio... E' una bella notizia... Ma dico ci sono volute 87... Non so 115 edizioni per capirlo... Perché il comune comunque non può avere questo tipo di interesse... Non lo percepisce... Una società privata è tutt'altra cosa... Ma dico questo per fare anche tantissimi altri esempi... E i colleghi che sono andati in Tunisia... Ma su questo guardi... Sinceramente io dico una cosa... Esiste oggi una produzione... Un mercato della cartapesta... E badate bene... Sciacca ha un'ottima firma... Paragoniamo all'abbigliamento... Siamo un po' l'armani della cartapesta... E' sciacca ma la cosa assurda che non esiste è produzione... Quindi su questo fatto siamo anche lì molto indietro... E ognuno è libero di fare quello che vuole... E' chiaro che sono accordi economici... I professionisti che ci sono nel nostro carnevale... Possono liberamente prendere accordi anche con Dubai... E' pur sempre promozione... Può arrivarne un beneficio... Ma chiaramente in termini pubblicitari... Perché Bellanca su questo è perplesso... Ma in termini pubblicitari e in termini di promozione sicuramente sì... Che le gestisce queste cose... Sicuramente sì... C'è una fondazione... Perché è chiaro che comunque è pur sempre una promozione... Tamuzza l'idea... E questa è la domanda che poi farò... Sarà anche caratterizzata... Caratterizzerà l'ultimo giro della nostra discussione... Tamuzza come vede l'idea... Che comunque chi viene da fuori a visitare il carnevale di Sciacca... Paghi anche un biglietto... Guardi... Questo è una cosa strana... È una cosa strana perché dovremmo sacrificare un po' la location... Per competenza di informazione dobbiamo dire... Che probabilmente questo in centro storico... È un po' difficile... Tecnicamente impossibile... Da realizzarsi... Sarebbe più facile alla perriera... Ma qui riapriamo un altro dibattito... Ma non è il caso... Non lo voglio aprire comunque... Però l'idea... Snaturiamo il nostro carnevale... Però sul piano concettuale... Sul piano concettuale è chiaro... Noi ricordiamoci che il carnevale viene finanziato con l'imposto di soggiorno da 3-4 anni... Prima era più complicato... Dal 2013... E quindi tu immagini che... Diciamoci la verità... Non è che a febbraio sia un periodo di alta stagione per noi... Assolutamente... Allora... Sulla base di questo però... La fondazione si potrebbe anche... Tendere a raggiungere... Perché se poi si deve autofinanziare come si autofinanzia... Allora... E' il cane un po' che si morde la coda... Qual è l'opinione? Sul fatto dello sbigliettamento sarebbe la soluzione ideale... Perché comunque consentirebbe degli incassi diciamo notevoli... E' una forma anche di autofinanziamento dell'intera manifestazione... Trovare però la formula giusta è un po'... Diciamo... Non è semplice... Vero è che anziché fare pagare il ticket... Che comunque tecnicamente è improbabile nel nostro centro storico... Si potrebbero utilizzare delle formule diverse... Delle campagne di sensibilizzazione... O qualsiasi altra iniziativa... C'è la lotteria... Ma io l'ho fatto anche nei miei piccoli numeri... E davo dei segnali anche all'amministrazione... Dicendo... Vedete che il carnevale può essere autofinanziato... Se iniziamo tutti insieme comunque a iniziare un percorso... Che porti alla privatizzazione di alcuni servizi chiaramente... Che devono consentire all'amministrazione di oggi spendere 300 mila euro... Ma da qui a fine mandato di dare alla città una festa che si sostenga da sola... Poi il patrocinio e la collaborazione col comune è chiaro che ci deve essere... Ci deve essere sempre... Però dobbiamo veramente fare in modo che questa festa si autofinanzi... E le soluzioni sono infinite... Poi magari in un'altra occasione ve le dico... Una sola... Una soluzione... Allora, la gestione del suolo pubblico... La gestione del suolo pubblico è una iniziativa che può portare determinati introidi... Una gestione del suolo pubblico non come è stata fatta fino ad oggi... Ma una gestione del suolo pubblico... Il suolo pubblico è stato gestito... Però che è stata per il futuro... È stato gestito dai privati, no? Il comune ha deciso di affidare dai privati... Sì... Che si è limitata a vendere gli spazi... Voglio dire... Lì oltretutto il suolo pubblico... Diciamo che si è aumentato la tariffa cosa per nel 2011... 11 forse... Perché era veramente... Irrisoria proprio la cifra... La cifra del... Era simbolica quasi... Ho un ente... Messo là... Con gente che capisce di marketing... Di marketing... Con gente che conosce la tradizione... La difende... Con gente preparata giuridicamente... Con gente che si è... Diventa autonoma... Prenda quella decisione giusta... Per stabilire... Arrivare dove dice Tamuzza... A chi è il carnevale... Sia una gestione autonoma... Anche economicamente... E che dà a Cesare... Quel che è di Cesare... Quindi noi... Ognuno di noi può fare commissario... Ognuno di noi ha la soluzione... A centro no... E' chiaro che poi... Bisogna trovare delle formule discusse... Vagliate da gente qualificata... Qua c'è il problema... Abbandonare il centro storico... Quindi una parte della tradizione... O capire che se mi voglio rendere autonomo... Ho bisogno dello sbigliettamento... Come avviene in altri posti... Le soluzioni li trova... La mente pensante... La mente pensante non è quella improvvisata... Quella che un anno c'è... Un anno non c'è... Quella soggetta a situazioni... Così movimentate... Ripeto... La cosa principale... Per salvare il carnevale di Sciacca... Si deve pensare a una cosa... Legittima... E' come quando tu finisci... Festeggi la laurea di un figlio... Lo vuoi abbracciare... E poi ti accorgi... Che a tuo figlio non hai fatto una casa... E non hai dato una famiglia... Noi carristi siamo in mezzo alla strada... E non abbiamo una famiglia che ci gestisce... Hai capito qual è il problema? Quindi... Avviamo... Questo processo... Che possa sempre... Diciamo... Non è che la politica... Come dicevano... Come andare è meglio che fottere... Scusate nel passaggio... Comanderete sempre voi... Ma liberatevi di questa... Datelo a chi... Non perdiamo questa cosa importante per Sciacca... Io voglio lanciare... Visto che c'è l'assessore qua... Per chiudere il mio discorso un po' attivo... Io faccio due cose finali... Una mi metto a disposizione... Per poter dare ai giovani... Fare un accordo con le scuole... Con il liceo... Per creare una piccola scuola... Per salvaguardare un po' l'idea dell'allegoria... Un po' l'idea di quello che è il copione... Un po' l'idea di quello che è lo spettacolo... Organizzare... Spiegare... Chiamare i vari interpreti... Uno per la musica... E fare una classe di giovani... E garantire... Come nasce... Come nasce... E per fare un accordo con il liceo classico... Con la scuola con il liceo artistico... Creare un gruppo di giovani... E poi garantire... E due migliori di questi... Una nuova rigenerazione... Garantirgli dei carri... Dopo il corso che lo fanno... Io ho tante richieste di ragazzi... Che mi chiedono... Pippo mi fa fare un inno... Pippo mi fa fare un copio... Ma io... Io... Partecipo a questo... E un'altra cosa per chiudere... Ma... In Tunisia... Sassizza si mangia... Sassizza... E no... Allora... Assessore Monte... No... Consigliere Monte... No... Vabbè... Mi scuso... Credo... Mi potete perdonare... Consigliere Monte... E non ci sente nessuno... Intimamente... Un po' li mette alla prova... Questi amministratori... No... Dice... Adesso... No... Come dire... Intimamente dice... Fatemi vedere... Quanto siete più bravi di me... Visto che mi avete criticato... Magari in passato... C'è un po' questo... Nel suo animo... In questo momento? No... Assolutamente no... Perché io ho un grande amore... Che penso che è quello che descriveva Pippo all'inizio... Per questa festa... Quindi di conseguenza... Io spero che vada bene... Spero che anzi... Tutto possa filare nel migliore dei modi... Però... Oltre a una presenza... Dell'amministrazione... Che posso condividere... O meno... Amare... O meno... Ma poco importa... Comunque c'è una struttura alle spalle... Che sa quello che deve andare a fare... Quindi sotto questo punto di vista... La festa è blindata... Però vorrei rifarmi un attimino il raggiamento di Pippo... Perché Pippo dice delle cose che... Filosoficamente non fanno una piega... Però purtroppo... Bisogna anche scontrarsi con la realtà... E bisogna anche smantellare una leggenda metropolitana... Che almeno... Mi ha visto protagonista... E che credo verrà protagonista anche Filippo Bellanca... Non c'è più il politico che comanda... Perché non abbiamo... Non c'era nello scettro ieri... Non c'è lo scettro oggi... Questa convinzione che il politico sia... In questo caso l'assessore di turno... Sia colui che decide le sorti del carnevale... È completamente sbagliato... Non esiste... Anzi... Chi amministra si ritroverà a fare il cameriere... Di 40.000 persone... Che durante il carnevale diventano altre... Non so quante... E di conseguenza... Quest'idea del comando non c'è più... Non c'è l'idea del comando... E mi rifaccio a uno che ha partecipato alle... Diciamo così... Alle competizioni... Non è l'assessore che decide quale carro vince... O se quale categoria vince... Anche questa cosa va completamente smantellata... Perché io... Ieri o oggi... Bellanca... Quale interesse può avere... Se ne vince uno o ne vince un altro... Assolutamente non è così... Io invece credo... Che bisogna assolutamente andare avanti... Sull'idea di collaborazione... Quindi... Quando Pippo dice... Collaboriamo... Cerchiamo di coinvolgere persone... È anche vero... Io che gli carristi... Siano completamente stati lasciati allo sbando... Non credo che sia stato così negli ultimi anni... Assolutamente... Perché... No, no... Nel senso che siano stati... Sui capannoni... Io sono il primo che fa mia colpa... Perché in questi anni non si è riusciti completamente... A far nulla per potergli garantire una casa... E questa è una vergogna che ci portiamo dietro... Non so quante amministrazioni... Da quando materialmente ci sono le amministrazioni nei comuni... 2004... 2005... Perché un'opportunità ce l'ha stata... Quando si è individuato il terreno... L'area dove realizzare capannoni... C'è stato un progetto... Io ricordo che... Anche così per correttezza di informazione sempre... È iniziato con... Totò Mandracchi e Ignazio Cucchiara... Io ero allora componente dell'Api... E ti siamo andati addirittura pure a Viareggio... Per andare a vedere quelli realizzati... Con fondi della presidenza del Consiglio dei Ministri... Allora... Se ne sappiamo tutti... C'è la cittadella del Carnevale... È una cosa splendida... Si disse che quel progetto... Quello di Pippo Leveri... Esattamente... Era un progetto fantastico... Era però un po' troppo... Ci furono un po' di veti in crociato... Non in quel momento... Si ci furono un po' di veti in crociato... Perché quello... Era il momento che si potevano realizzare... Perché allora... Esatto... C'era pure l'ingegnere Oliveri... Che in quella missione... E aveva realizzato un progetto bellissimo... Spendendo... In quel momento c'era la possibilità di realizzarlo... Poi successivamente... Quando... Nel 2005... 2006... 2007... L'amministrazione allora... Torturici... Ha modificato un po' il progetto... E poi nel frattempo le misure... Delle strutture fresnelle... Però poi è andato tutto così... Le misure finanziarie possono svanire... Anche lì secondo me... Però... Io sono convinto di una cosa... Perché non ti si è riprendere il discorso... No... Io... Io però questa cosa... Non voglio rire una... Ho in mente un momento... Che hai ricordato pure tu... Della fine del carnevale... La chiusura del carnevale... Che... L'allora avvocato... Che era sindaco di Sciacca... Io ero là sopra con Mandracchia... Come componente... E l'ave ti disse il discorso dei capannoni... Perché stavamo... Stavano veramente... In quel momento lavorando... Sui capannoni... E' successo un... Un putiferio... La gente ovviamente... Iniziata a fischiare... Ma non era un problema... C'era veramente... In quel momento... Si ci stava lavorando... E poteva essere un'opportunità... Ora... Io di questa cosa... Non ne voglio parlare... Per speculare il momento... Che si va verso... Verso la festa del carnevale... E dire... Adesso facciamo il capo... No... Però l'unica cosa che posso dire... E che è una mia idea... Che da tempo... Siccome mi giungono voci... Che ci sono possibilità... Anche di chi... È operatore del carnevale... Di volersi prendere... Quelle aree... E realizzare a spese proprie... Perché ormai... Non sono più i tempi di una volta... Che costi sono abbassati... Ormai con una struttura... Precaria si realizza... Con pochissimi soldi... E con pochissimo tempo... Che famose tenso strutture... No... Non sono... Non sono... Non sono... Non sono... Non sono strutture... Parliamo adesso... Poi possibilmente... Ci sarà... Nei prossimi anni... Con questa nuova programmazione... Si fa per dire virgolettato... Perché in teoria la programmazione è del 2014-2020... Ma sappiamo tutti che la regione siciliana è indietro di tre anni... Ma ci possono essere anche delle opportunità... Degli avvisi che consentono anche di partecipare al Comune... Vice sindaco... Ricordiamo che lei è anche vice sindaco... E hanno fatto un giro dei siti... No... Assolutamente ancora... Che notizia comunque... Ha iniziato da poco... Qualche giorno credo... Non ne so che hanno iniziato tutti... Ogni tanto... Mi arriva qualche... Qualche immagine... Insomma... Di... Di momenti che... Esche dicche come già... Esatto... Esatto... Ha detto bene... Però voglio dire... Questo è anche il momento carino... Del... Della festa... Della organizzazione... Della preparazione dei carri... Fatemi concludere con Tamuzza... Quanto le mancherà questo... Quanto ti mancherà questo periodo... Può essere che vai in Tunisia con... Con Salvatore... Volentieri... 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 Perché Salvatore ha detto... Che non partirei per la carnevale... E mi sa che lo scambieranno... Anche per un indigeno... E immagino... 8000... 8000... Non verrà difficile... Inserirsi nella pente... No... Anche perché... Se... Ci vado poi con l'inno di Salamalicchi... Quindi vado sul sicuro... Vado sul sicuro... Quanto ti mancherà Pino? Mi mancherà... Mi mancherà... Ne sono convinto... Però potrai essere ospite di... Vabbè... Ospite potrai andare da qualcuno... Eh... L'ho capito... Ma chiaramente non è la stessa cosa... Lo sappiamo... Mi mancherà... Ma dico... Ripeto... Ma ospite dello schiticchio sì però... Ah... Certamente... Non la divindere il carro però... Sicuramente non vorrei rovinare qualche opera d'arte... Grazie... Grazie... E mi... Buonasera a tutti... Fatemi... Fate fare i complimenti a Pino da Muzza... Per come... Per lo spirito... Per lo spirito col quale... Il garbo di come affrontare... Il garbo... L'atteggiamento... Grazie... L'associazione che lavorano... Assolutamente sì... Ho detto alle associazioni che sono state ammesse... Perché in una città come Sciacca... Non è facile trovare questo tipo di approccio... Ecco perché io... Ho grande ammirazione... Questo vuol dire che siamo maturi... Che c'è un mondo maturo... Siamo sull'ottima strada... Dell'associazionismo sul carnevale... Grazie... 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 Arrivederci... Grazie... 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 Grazie...